e allora allora abbiamo montato abbiamo montato lo stand più arrogante del mondo bello questo stand è bello ma cosa sono i libri in esposizione qui c'è il reparto cristina poi lì c'è il reparto dei ragazzi che suonano che bello il bananone dietro fammi vedere questo sì che è un bel bananone porca miseria che bananone bello bello il portatile quella della pedaliera bello 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 se possiamo andare a dopo